Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove c'è un chilometro di coda per un incidente, tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia, in direzione Roma. Sulla Grosseto Fano, uscita di Montagnano chiusa per lavori fino al 31 ottobre. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano, in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Bistiberina, riduzione di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Madonnuccia Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud, in direzione Ravenna. A Firenze, in via Guelfa, fino a lunedì, per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica, il tratto da Via Nazionale a Via Montanelli sarà chiuso. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!